Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento la nostra video recensione del Galaxy Note 3, il phablet di terza generazione dell'azienda sudcoreana, ma prima di adentrarci nella video recensione volevo ringraziare gli stocchisti per averci fornito un altro device da recensire, tra l'altro potete trovare a un prezzo molto interessante questo device sul loro store e oltre questo volevo farvi notare che abbiamo un nuovo piccolo studio, studio che ci permette di fare foto e video di qualità speriamo leggermente superiore anche se ve lo dico subito siamo ancora a work in progress, abbiamo purtroppo una linea DSL ancora lenta quindi se vedete il cellulare non ancora troppo performante è colpa soprattutto di quello, la navigazione non c'entra, ma speriamo di migliorare per le prossime volte. Ora non potevamo più attendere per questo Note 3, l'abbiamo provato anche in altre sedi e vi possiamo assicurare che la navigazione è e non è assolutamente un problema. Allora, andiamo a fare l'unboxing del Note, Note che si presenta nella solita scatola ormai fissa di Samsung con carta riciclata, piuttosto apprezzabile questa scelta, per una grande azienda come Samsung speriamo che anche il Note sia stato prodotto nel rispetto dell'ambiente. Il manuale è piuttosto grande, questo è un versione del Note europeo, il manuale quindi è in diverse lingue nordiche, di cui purtroppo non so tradurvi niente, però è molto completo per essere ormai nell'era moderna dove vediamo questi manuali sempre più ridotti all'osso. Abbiamo poi le istruzioni per fare lo switch to Samsung, se veniamo da altro sistema operativo o da altro smartphone, se è un altro smartphone Android, comunque non avremo grandi problemi, ci sono i servizi di Google che ci vengono in aiuto. Abbiamo il caricabatterie da viaggio classico Samsung, come anche le cuffie auricolari in ear con i cappucci, regolabile a seconda del nostro orecchio e cavo USB, micro USB, doppio anche per lo scambio di dati. Abbiamo poi, sinceramente non ho capito, ho guardato un po' il manuale per capire meglio di preciso cosa servissero queste puntine, probabilmente voi saprete dirmi di più, potranno servire ad aprire qualche scompartimento, sinceramente non ne ho avuto bisogno. Sarà qualche aggiunta gradita, magari la scopriremo insieme durante la video recensione, anche se per adesso non ne ho avuto bisogno. Ah, puntine che tra l'altro mi hanno fatto notare potrebbero essere le punte di ricambio della stessa penna. Mentre l'altro accessorio, l'altro accessorio probabilmente ci aiuterà in qualche caso a tenere la penna o a fare altro, però adesso non ci è mai servito. Il Note 3 non è sparito, ce l'ho di qua, un po' la batteria scarica ma dovrebbe bastare. Come potete vedere rispetto al precedente Note è leggermente cambiato. Scusate un attimo, come ho detto studio nuovo abbiamo un attimo qualche difficoltà. Allora, abbiamo un display da 5.7 pollici veramente enorme, più piccolo rispetto ai concorrenti fablet appena usciti come lo Z-Ultra e il OneMax. Comunque mantiene una risoluzione in Full HD, quindi la densità di PPI è la maggiore dei tre, come abbiamo fatto anche un confronto, una tabella di confronto. Infatti abbiamo ben, se non mi sbaglio, 386 PPI. Veramente tantissimi per un phablet. Le dimensioni? Dimensioni. Pur essendo così grande, la nuova struttura consente di avere delle dimensioni abbastanza limitate. 151 x 79 x 8.3 mm di spessore. Grande ma non eccessivo, soprattutto non è pesante. Abbiamo 168 grammi totali con batteria inserita, che sono molto limitati rispetto ai 220 quasi del OneMax e dello Z-Ultra. Quindi, ottimo lavoro da parte di Samsung. Come potete vedere, la cover dietro è in, possiamo definire la similpelle, ma è più una plastica alla fine che similpelle. E' piuttosto elegante la vista, purtroppo appena la toglieremo ci accorgeremo che la qualità di questa cover è piuttosto bassa, molto leggera, forse troppo, molto plasticosa, molto delicata anche. Parte destra invece dove troviamo microfono qua sullo spigolo, che probabilmente servirà per la soppressione dei rumori. Tasto di blocco o sblocco del telefono. In alto invece troviamo il jack da 3,5 e a sinistra il bilanciere del volume. Struttura riprende in particolare il Galaxy S4, lo Samsung ha fatto molti device con questa struttura. Quest'anno non si è molto tolta da questo tipo di design, cosa apprezzabile. Ha cambiato però lo stile della penna. Penna più leggera. Sinceramente forse è leggermente peggiorato il grip che si ha con il dito. Punta, come potete vedere qua, che è cambiata anch'essa. Tastino di funzione in questa posizione. E forse una penna, la S-Pen nuova, un po' troppo leggera. Per il resto invece le funzionalità di questa sono assolutamente migliorate. Allora, detto questo passiamo all'hardware puro. Vi ho già parlato del... Attento ho aperto la rivista personale. Vi ho già parlato del display Full HD Super AMOLED Plus. Veramente eccezionale. Passare subito alla visione di qualche foto. Foto che tra l'altro pubblicheremo in qualche confronto. La qualità di queste è veramente stupenda. Come potete vedere con la penna possiamo avere un'anteprima di queste senza cliccarci. Adesso proviamo a cliccare. Non so se potete apprezzare il tipo di dettaglio. Con questa fotocamera a 13 megapixel e questo display. Una coppiata veramente sorprendente. Ci sembra veramente di avere una digitale dedicata. E forse tale phablet può essere superiore anche a diversi camera phone. Non ha niente da eccepire. La quantità di megapixel è più che è sufficiente. Soprattutto un'ottica luminosa. Insieme a un display che ti fa apprezzare le foto anche appena fatte. Senza vederle su grandi strutture. Passando invece all'hardware. Al cuore dell'hardware troviamo lo Snapdragon 800 spinto a 2.3 GHz. Mentre vi ricordo che lo Z Ultra ha sempre lo Snapdragon 800 spinto a 2.2. Mentre il nuovissimo One Max ha purtroppo ancora lo Snapdragon 600. Che purtroppo è leggermente più limitato. Certo non ci troviamo molto indietro ma comunque qualche limite in più ce l'ho. Andiamo adesso a scoprire qualche funzione della penna. Insieme al Note 3 abbiamo un piccolo aggiornamento da 30 MB. Purtroppo abbiamo la batteria scarica e non ci ho permesso di installarlo. Ma è poca roba. Abbiamo già detto che comunque non va a cambiare. Sono più backfix che altro. Come potete vedere abbiamo avviato Knox prima per provarlo. Per vedere come funziona. Non c'entra tanto con la penna però è una funzione interessante. Praticamente questa piattaforma nuova di sicurezza di Samsung ci permette di poter utilizzare il nostro telefono come avere un'altra piattaforma, un'altra, possiamo definire la partizione di Android protetta. Protetta sia dal punto di vista ludico. Guardate, vi metto la password intanto che vi parlo. è una piattaforma protetta a cui può accedere solo l'utente con la relativa password. Quindi potete salvarci e creare più profili Knox sullo stesso telefono in modo da poter utilizzare tutte le funzioni. avere foto private, avere una navigazione privata senza avere preoccupazioni, eccetera. Anche dal punto di vista lavorativo, email, rubrica e altre cose senza che un utente fuori Knox possa vedere questi contenuti. Stessa cosa comunque anche per i file. Esiste una partizione all'interno di Knox che ci permette di non far visualizzare i contenuti al di fuori di tale piattaforma. Cosa utile? L'integrazione di tale funzione non è stata semplice. Samsung ha dovuto lavorarci parecchio. Come potete vedere, possiamo uscire da Knox in qualsiasi momento. Allora, applicazioni preinstallate e utilizzo della penna. Penna che ci permette di essere utilizzata in qualsiasi schermata. Troviamo anche alcune applicazioni dedicate a questa. Per esempio, abbiamo questa categoria. Questo praticamente cos'è? È un raccoglitore di informazioni, foto, eccetera. Un nuovo tipo di raccoglitore. Proviamo ad aprirlo. Nessun contenuto. Perché dobbiamo andarlo a raccogliere o salvare esternamente dall'applicazione. Vi ho fatto vedere i controlli Air, che si possono attivare direttamente col pennino. Questa è una delle integrazioni più, per me è stato il termine forse non corretto, furbe di Samsung. Tramite questa tendina potremmo andare sul Memo Rapido, Album Ritagli, vogliamo aprirlo, o altre funzioni, direttamente cliccando sul pennino. Adesso siamo già in Album Ritagli, scusate. Andiamo sul Memo Rapido. Memo Rapido, vogliamo fare un Memo al volo, possiamo farlo in un attimo, aprendo quella tendina in qualsiasi schermata del Note. Vi faccio vedere come la pennina sia ancora migliorata, notevolmente direi addirittura. Cancella tutto. Una miglioria sia dal punto di vista della precisione della pressione, molto molto sensibile. Sia dal punto di vista della precisione, è veramente un piacere scrivere, non si ha naturalmente il feedback che si ha sulla carta, ma comunque ci troviamo ad altissimi livelli. Chiudiamo. Riapriamo Air Command, scrittura schermo, S Finder e funzione penna. Disegnare una finestra di qualunque dimensione, una parte qualsiasi dello schermo. Orologio. Come potete vedere stiamo un attimo facendo vedere una carrellata delle possibilità di questo Note 3, sono veramente tantissime. Forse è il device con più funzioni che abbiamo provato quest'anno, più funzioni anche utili. Sinceramente questa funzione delle finestre è veramente bella, viene assolutamente sfruttato tutto il display enorme del Note. Adesso abbiamo un multi-view con la finestra fissa sotto. I due widget mobili sopra, che possono essere gestiti, e il nostro album di prova sopra. Abbiamo ben quattro elementi aperti, gestibili benissimo con la penna. Se volessimo quello di sopra lo cambiamo e mettiamo Internet. In un attimo. Chiudiamo le mail, guardiamo le mail. Come potete vedere un utilizzo estremo. Un'utilità di questo phablet veramente estrema. In più, abbiamo cambiato schermata, ci riduce al minimo i widget mobili che abbiamo aperto prima. Come potete vedere, ce li ritroviamo così. Li chiudiamo a pallina. Pallina che possiamo spostare, come vogliamo. Lo riapriamo e lo chiudiamo. Che dire, è veramente eccezionale questo Note. Sinceramente, per adesso trovo che sia forse il device di Samsung meglio riuscito. Meglio dell'S4, senza contare le dimensioni. A livello di funzionalità, la penna ormai ha un ruolo importantissimo. Non è solo un accessorio per giustificare una differenziazione tra gli altri prodotti. Ma è proprio necessaria, è proprio sfruttabile al meglio e aiuta. Comunque, interfaccia di Samsung. Come potete vedere, in alto abbiamo le diverse scorciatoie. Scorciatoie che possono essere personalizzate. Abbiamo comunque anche la possibilità di visualizzarle in questo modo e di editarle. Possiamo spostarle tra un pannello e l'altro. Visualizzazione del multitasking. Questo è piuttosto classico da parte di Samsung. Qua possiamo chiuderle come Android Stock, facendo uno swipe verso sinistra o destra. Possiamo vedere l'utilizzo della memoria. Tra l'altro questo è il primo device con 3 GB di memoria e si vede. Forse Android, più che della potenza computazionale del processore, ha bisogno di RAM. Tanta, tanta RAM. 3 GB sembrano essere veramente sufficienti. L'interfaccia di Samsung non è leggerissima. Ma in questo device non si sente praticamente mai il bisogno di avere un processore addirittura più potente. Andiamo a vedere. Posiamo un attimo la penna. Penna che quando verrà posata e inserita farà una piccola vibrazione. Inseriamo un nuovo messaggio. Scriviamo. Tastiera classica di Samsung che si fa ancora più apprezzare in questa edizione. Scusate, bisogna scrivere qua. Ok, abbiamo inserito un numero a caso. Allora, una scrittura quasi perfetta. Adesso ho fatto un errore io, ma dovete capire che anche ho una fotocamera davanti, più una situazione di ideale lo studio è ancora piuttosto critica. Però ho scritto veramente veloce, in fretta, senza praticamente guardare la tastiera. Tastiera con pulsanti ben distanziati, che trova in questi quasi 6 pollici un utilizzo perfetto. Tra l'altro non c'è neanche corretto, perché avevamo la tastiera impostata in inglese. Comunque abbiamo anche la possibilità di far riconoscere il nostro scritto. Vediamo se gli piace. Stiamo attassando. Non lo prende. Aspettate un attimo. Scusate, questi sono il bello e il brutto della diretta. Eccoci di ritorno. Scusate, batteria scarica della fotocamera. Quando si dice un problema, tira l'altro. Comunque, stavamo sbagliando un attimo nell'inserimento del testo. Ne ho approfittato della pausa per ricordarmi come si fa. Praticamente basta andare sullo spazio vuoto, cliccare sul pennino che è spunta. Proviamo a scrivere ciao. Facciamo uno spazio. Come potete vedere, è tutto abbastanza preciso. Naturalmente, potremmo essere precisi nella digitazione dei caratteri minuscoli e maiuscoli. Ma anche questo aspetto è parecchio migliorato. Sicuramente la precisione della penna aiuta rispetto al Note 2, che comunque era ottimo. Torniamo a parlare di fotocamera. Fotocamera, come vi ho detto, da 13 megapixel. Stabilizzatore di immagine. Soprattutto nei video si nota. E soprattutto molto luminosa. Molto luminosa e dettagliatissima. Le abbiamo viste, le abbiamo anche stampate per capire se veramente il dettaglio era così anche su video. Ma oltre ad essere abbastanza veloce, è una fotocamera veramente bellissima. Vi volevo mostrare... Adesso noi abbiamo messo la data automatica. Guardate questi colori. Colori, qualcuno di voi potrà dire, sono un po' innaturali. Ma a dirvi la verità rendono veramente bene l'idea. Tra un po' li pubblicheremo in confronto con un Lumia 1020 questi stessi scatti. E vi posso dire che alla fine il Note non sfigura per niente. Anzi, in alcuni casi. Sembra addirittura migliore per luminosità delle foto. Abbiamo altri strumenti. Abbiamo Samsung. Ho creato una cartella dove possiamo trovare tutti i suoi strumenti rapidi. Abbiamo S-Voice. S-Voice. Il Siri di Samsung. Scusate ma... Ogni tanto... Ciao. Ora lui dovrà interfacciarsi con il server di Samsung. Ciao Galaxy. Ricerca Nexus Lab su internet. Aspettiamo un attimo. Sta interpretando. Ricerca Nexus Lab. Vediamo se è così intelligente da dirigersi direttamente sul nostro sito. Vi ripeto, abbiamo qualche problema sia di connessione in 3G sia di connessione tramite ADSL. Quindi la lentezza è dovuta soprattutto a questo. E non tanto all'utilizzo vero e proprio dato che il Note si è dimostrato tra i smartphone barra phablet più veloci nella navigazione web. Purtroppo il browser non ha voglia di andare. Niente da fare. Purtroppo la linea ci sta abbandonando e non penso che migliorerà a breve. Ok. Non ci avevo aperto. Google Now, se ci sto. Google Now che si può aprire direttamente dalla G qua in basso. Oppure si può utilizzare direttamente una barra di ricerca. Non vi avevo mostrato lo sfondo del desktop, del desktop scusate, delle home di Android. Come potete vedere anche il Note è in grado di percepire il nostro dito a distanza. Non stiamo stoccando il display, come potete vedere. Feature carina. Con la penna funziona allo stesso identico modo. Per sbloccare ci basterà strisciare o il dito o la penna. Teniamo premuto. Se teniamo premuto sulle home di Android potremmo impostare lo sfondo, creare una cartella, aggiungere una pagina e andare in applicazioni widget. Applicazioni widget che è un altro che è il cassetto dell'applicazione classico. Andiamo in imposta sfondo. Possiamo impostarlo sia per la schermata home di blocco. Noi in questo caso andiamo in quelli di blocco-sblocco e vi facciamo vedere come quell'animazione che vi abbiamo fatto vedere prima si adatti anche a sfondi di diverso tipo. Vedete vedere il colore che viene praticamente sciolto si visualizza con qualsiasi tipo di sfondo. Effetto molto molto bello. Questo sfondo, schermata di home di blocco, possiamo anche cambiarlo in entrambi i casi. Adesso qua ci sono quasi tutti quelli installati da noi, se no ne troviamo veramente pochi in questo caso di sfondi preinstallati. Vi volevo far vedere quest'altra feature. Con la penna, in pratica quando siamo in una schermata di scorrimento, possiamo andare su, come potete vedere, verso l'alto e si visualizzerà una freccia. Adesso siamo al top della pagina, ma se andiamo sotto possiamo scorrere senza neanche toccare il display. Altra feature veramente bella e carina. Come altra caratteristica, essendo un device Samsung troviamo le Samsung Apps, ma soprattutto troviamo l'album foto. Album foto che ci permette, purtroppo abbiamo dovuto resettare e non è presente, con la nostra connessione ci piegheremo due ore. Album foto che ci consente di montare dei album fotografici che possiamo anche ordinare direttamente da internet, ci arriveranno addirittura i cartacei. E' molto carina come funziona. Funzionando la fotocamera, non avevo finito, scusate ma mi sono distratto. Abbiamo anche le diverse modalità. Abbiamo la modalità sportiva che ci consente di avere una velocità di scatto con diaframmi più elevati, più grandi, in modo da poter prendere anche un soggetto in rapido in movimento. Abbiamo lo scatto panoramico a 360 gradi, quello normale in linea orizzontale. La possibilità di cancellare un soggetto di troppo. Abbiamo anche la possibilità di scattare foto. Lui le chiama golf, ma anche in altri casi, anche solo con un braccio, potremmo simulare questo effetto di movimento rotatorio del nostro braccio, della mazza da golf in questo caso. Foto animata, ci consente di avere un piccolo elemento animato in una foto. Dinamico, diverse foto verranno unite per creare un effetto dinamico. Audio foto, una foto semplicemente con audio. Volto migliore, diversi volte scegliamo di migliorare il nostro volto, invece scatto migliore scatta una serie di foto tra cui scegliere. Naturalmente lui sceglierà anche in automatico, però ci permette comunque di vedere. Così possiamo avere una visione più ampia. Non troviamo una manuale, cosa che ci sarebbe piaciuta, ma comunque ci troviamo di fronte a un phablet e non hanno un device dedicato alle fotografie. Gestione effetti, abbiamo anche qua tutta una gestione degli effetti da poter inserire in real time sulla foto. Modifica opzioni rapide, come potete vedere possiamo anche modificare le opzioni da vedere direttamente in alto. In più, abbiamo anche le impostazioni generiche a cui potevamo accedere anche in alto a sinistra. Tocca e scatta, rilevamento volti, misurazione dell'ISO, qualcosa di manuale ce l'abbiamo, ma comunque l'ISO consiglio sempre di tenerlo in automatico perché alzarlo anche solo sopra gli 800 è quasi un'eresia, non ce la fa il device, troppo rumore poi sugli scatti fotografici. Rubrica, abbiamo la ricerca rapida in rubrica dal dialer, come potete vedere. Per il resto il menu è abbastanza classico. Andiamo a visionare la versione di Android. Questo è il primo device di Samsung a poter già godere di Android 4.3 Jelly Bean. Naturalmente sarà supportato, speriamo, per almeno un paio d'anni. Per adesso Samsung sembra supportare a dovere i suoi Note, i suoi Galaxy S. le due serie principali dell'azienda. Per finire, oltre a mostrarvi ancora il device, parlerei di batteria. Batteria assolutamente sufficiente per arrivare a fine giornata, se non anche fare una metà buona della mattina successiva. Quindi anche a livello di autonomia ci troviamo ad altissimi livelli, considerando l'ampio display. Molti mi diranno, ho un Note 2, conviene passare a questo Note 3? Sinceramente, se avete la disponibilità economica, riuscite a piazzare bene un Note 2? Sì. Trovo che sia un device eccezionale questo Note 3. Foto stupende, display fantastico, leggero, funzioni della penna migliorate in tutti gli aspetti, veloce, velocissimo, anzi, forse il device più veloce Android mai usato in vita mia. Uniche pecche solite di Samsung, l'interfaccia non mi fa impazzire. Per il resto è difficile trovare un difetto, a parte anche questa cover posteriore, che inserita nel telefono fa un corpo unibody quasi perfetto. Togliendola invece abbiamo qualche problema di... Sembra quasi rompersi, magari non si rompe, è piuttosto elastica, però si poteva fare qualcosa di più. Per il resto, perfetto, non vi ho parlato dell'audio, audio che in effetti poteva essere con doppia cassa stereo, ma comunque di buon livello, però per il resto, a livello globale, il phablet migliore di quest'anno. Sicuramente a livello di phablet è il migliore, la concorrenza deve fare molto di più se vuole fronteggiare Samsung, e se si è indecisi tra un S4 e un Note 3, se si sacrifica qualche centimetro, ma neanche più di tanto, assolutamente Note 3 tutta la vita. Un saluto da Alessandro per Nexus Love. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti